Avevo già iniziato questo video, l'ho dovuto ricominciare perché ho rischiato di morire tossendo mentre dicevo le prime parole e quindi ci riprovo, spero di non dovermi interrompere nuovamente. Eccolo, siamo tornati. Dai, venerdì ragazzi, il weekend è vicino, manca poco, tenete duro, tenete botta, che ormai ci siamo. Però ci sono alcune informazioni lato Juve e ovviamente alcune analisi lato mondiali da fare che si intrecciano come al solito sulla Juventus, dato che ieri comunque c'è stata una partita abbastanza importante per quelli che sono i tesserati Juve. Ma ci arriviamo, andiamo con ordine, con calma, ho tanti argomenti di cui parlare oggi e riuscirare oggi. Prima di tutto però vi ringrazio perché nonostante il momento in cui la Juve non gioca e ci sono i mondiali e quindi è una roba sicuramente diversa, il canale sta comunque mantenendo la sua identità. Vedo che i vostri commenti non mancano mai anche in contenuti magari diversi dal solito. Lasciate sempre i commenti, lasciate sempre mi piace, quindi sono contento di avervi qua anche in un momento in cui non gioca la Juventus e di questo voglio assolutamente ringraziarvi. Romeo Agresti dice, summit, summit previsto tra Juventus e Massimiliano Allegri per cercare di cogliere l'opportunità legata al laterale. Allora, è il 25 di novembre e voglio puntare un euro, una fish sul fatto che sarà Carsdorp. Ne ho già parlato di Carsdorp in un video insieme a Sickwolf, lo trovate comunque qui sopra al canale. Andatevelo magari a vedere e rivedere per capire un attimo le mie impressioni su Carsdorp, dove dico che capisco l'opportunità legata al mercato, però poi un po' più di perplessità sicuramente le ho e credo anche che vada incastrato il discorso Federico Chiesa, perché Chiesa l'ultima partita con la Lazio è entrato in sostituzione di Kostic come esterno e sinistro e Chiesa a fine partita ha detto comunque io lì ho giocato il miglior calcio della mia vita, mi sento a mio agio giocare in quella posizione, però io ho ancora un po' di dubbi sul fatto che Chiesa possa giocare esterno in un centrocampo A5, non perché Chiesa non sia in grado, ma per quella che è la richiesta di un esterno A5 da parte di Massimiliano Allegri. Quindi dal primo minuto non me lo immagino, magari come giocatore che viene sostituito, che entra nel secondo tempo, che viene messo lì, magari in fase di emergenza, come appunto è stata con la Lazio, ma non mi vedo un Chiesa per intenderci che possa diventare il nuovo titolare a destra al posto di Quadrado con Kostic sulla sinistra. La Juve è alla ricerca dei laterali perché deve farlo, ora Healing ha avuto un problemino e dovrebbe rientrare nel 2023, quindi dovremmo averlo a disposizione, che potrebbe essere benissimo il vice Kostic, dato che Kostic sta facendo titolare, e Healing quando è entrato ha fatto vedere buone cose. A destra è una situazione un po' più complicata, appunto togliendo Chiesa l'equazione, perché Quadrado oppure De Sciglio, e quindi sicuramente, sicuramente va fatto qualcosa perché anche il titolare non è l'altezza. Però quella parola opportunità a me è un po' puzza, perché l'opportunità solitamente è un giocatore a basso costo, a basso prezzo che può nascondere un passato travagliato, una situazione particolare come appunto quella di Carsdorp che solitamente non è un fenomeno perché sennò il club cerca di tenerselo. È difficile trovare un giocatore sul mercato a basso costo, svincolato, di qualità assoluta, togliendo anche qui Cristiano Ronaldo dal discorso perché quella è una situazione un po' più complicata, però solitamente se vuoi giocatori forti paghi, o se no aspetti che vadano in scadenza e te li prendi a zero andando a strapagare l'ingaggio, andando a offrire un ingaggio più alto. Quindi è complicato solitamente, ma la parola opportunità un po' mi spaventa perché non vorrei mai che fosse appunto la solita trattativa per accapparrarsi un giocatore che sì lì ci può giocare, però poi non ti cambia niente a livello di club. Allora io delle due provo a richiamare dal prestito Cambiaso o Pellegrini. Se devo prendere un giocatore tanto per prenderlo perché a livello numerico non mi sento sicuro, non ha senso andare ad investire degli altri soldi. Poi Pellegrini gioca a sinistra, quindi poi il problema a destra rimarrebbe, quindi più Cambiaso che comunque anche a destra ci ha giocato anche il nazionale under 21. Però se deve essere un'opportunità per arrivare a giugno perché a livello numerico col 3-5-2 non siamo a posto, eviterei di buttare dei soldi a caso su un giocatore che magari ha o un'età media troppo alta o dei problemi fisici oppure semplicemente non convince. Non arriva tutti i giorni Dani Alves che comunque ha parlato l'altro giorno dicendo che avrebbe fatto meglio non accettare la Juventus. Io di quella stagione ho un ottimo ricordo, dispiace solo non essere arrivati all'ultimo millimetro, non aver superato l'ultimo millimetro perché questa stagione poteva diventare leggendaria. Anche grazie a Dani Alves che in Champions ha fatto tantissimo. Per quanto riguarda sempre il mercato, ragazzi c'è questa voce insistente ancora su Milinkovic-Savic, a me continua a sembrare una fregnaccia, però ora come ora perché c'è il Mondiale. Non mi stupirebbe, tranquillamente voglio dire, non mi stupirebbe di vedere Savic a gennaio la Juventus. Però da qui a dirvi che è fatta, da qui a dirvi che si fa davvero. Anche qua vi ho già raccontato la mia posizione. Bene, se esce a rabbia a gennaio posso capire, però ribadisco che un investimento grosso, così grosso come lo chiede l'Otito, probabilmente non lo farei, per quanto io sia innamorato calcisticamente di quel giocatore. Attenzione che la Juve non analizza solo il mercato dei centrocampisti e degli esterni, ma sta valutando per il futuro, quindi sta utilizzando un po' di programmazione, il ruolo del portiere, perché Scesni è vicino alla scadenza del contratto, dovrebbe scadere il 2024, se non vado errato, e la Juventus sta cercando di fermare il futuro portiere titolare e sembra essere uno tra Carnesecchie e Vicario. Giocatori che comunque sono stati nominati tante volte, profili italiani, e attenzione che uno dei due potrebbe essere fermato già a gennaio dalla Juventus per poi essere girato in prestito l'anno dopo o comunque rientrare già alla base. Vediamo, comunque sono due dei portieri che meglio stanno facendo probabilmente all'interno del panorama calcistico italiano e vediamo. Io sono un po' ignorante a livello dei portieri, nel senso che, più che ignorante sì, comunque sì, però io credo che il portiere sia un ruolo molto delicato, cioè il portiere che ti fa bene in una squadra medio-piccola, poi se va nella big non deve parare nello stesso modo, quindi è un po' difficile scommetare oggi valutazioni su dei portieri per la Juve, perché un conto è giocare nell'Empoli come Vicario, un conto è giocare nella Juve come Scesni, sono due cose diverse. E attenzione che ieri, parlando di Cristiano Ronaldo, ha segnato e ha vinto e ha subito un bel rischio nel finale, perché il portiere del Portogallo ha fatto prendere un infarto a Ronaldo che è già stato memato con le mani nei capelli, però vedi, Leao entra, primo pallone che tocca al Mondiale, fa gol, un gol fotocopia rispetto a quello che ha fatto a San Siro con la Fiorentina, e il Portogallo si porta a casa un 3-2, abbastanza stretto, perché appunto poteva evitare, non ho sinceramente capito nemmeno io l'allenatore del Ghana che ha fatto delle sostituzioni un po' particolari dopo il gol di Aiu, però se l'ha voluta giocare così si sentiva al sicuro, poi non è andata così, e quindi prosegue il mio sogno legato alla finale delle finali, Argentina contro Portogallo, anche se Portogallo appunto ha vinto e si è messo in una situazione di vantaggio, l'Argentina deve rincorrere, lo farà domani contro il Messico, è già una partita da dentro fuori, è permesso i ragazzi, è una partita da dentro fuori, e a proposito di Argentina, vi lascio comunque qui sotto in descrizione un link per tutti gli approfondimenti del caso, quindi se siete interessati a qualche approfondimento legato all'Argentina, passate dal link qui sotto in descrizione, e dato che abbiamo parlato di Portogallo, di Argentina, non possiamo fare altro che parlare anche della partita, che sulla carta doveva essere la partita della Juve, perché Bremer, Alexandro e Danilo da una parte, Blaovic e Kostic dall'altra, anche se poi non è stato esattamente così, o almeno, Alexandro e Danilo sì, hanno giocato titolari terzini, Alexandro ha preso pure un palo, Danilo ha fatto la sua buona partita con alcuni momenti in cui stringeva particolarmente dentro il centro del campo, come avevamo già visto fare anche diverse volte con la Juventus, Brasile che vince con doppietta di Richarlison, che era stato un fantasma nel primo tempo, poi ha fatto due gol, il secondo clamoroso, una perla veramente rara, ma attenzione perché Neymar poi è uscito con una caviglia grossa così, sembra quella di colpo gobbo dopo la YouTuber League, e attenzione, davvero attenzione perché Neymar, oddio, adesso il medico del Brasile ha detto ci vorranno 24-48 ore per capire l'entità dell'infortunio, Tite ha detto giocherà ancora in Qatar, vedendo la caviglia, secondo me farà molta fatica, o comunque riuscirà a giocare ma avvertirà dolore, poi ho visto solo una foto, non sono medico, sanno meglio loro, però è una foto che fa veramente impressione, così come fa impressione pensare a Neymar, che cos'è stato otto anni fa nel Mondiale del 2014, aveva preso quell'entrataccia di Zuniga che gli aveva, mica ho fratturato una costola mi pare, non ha particolare fortuna Neymar al Mondiale contro giocatori che hanno militato, o che militano nel campionato italiano, perché ieri con Milenkovic è rimasta appunto la caviglia sotto, è stato costretto al cambio, quindi vediamo cosa succede perché già non c'è Benzema, già non c'è l'Italia, già non c'è Pogba, già non c'è Kanté, perdere anche uno come Neymar, secondo me il Mondiale viene danneggiato, semplicemente, per quanto io non voglia il Brasile in finale, per chi ha un'altra idea, perdere un giocatore come Neymar, che tra l'altro in questo momento era particolarmente in forma, beh, mica male avere Neymar nel Mondiale, mi dispiacerebbe potesse finire qua, così, anche perché il Brasile ne parlavo ieri potenzialmente, secondo me è una delle squadre più forti in assoluto, e dicevo non è stata la partita della Juve dei Mondiali, per un motivo perché poi Bremer non ha giocato a titolare, e dall'altra parte neanche Vlaovic e Kostic figuravano negli undici, Kostic nemmeno è entrato, l'abbiamo detto prima, Chiesa è subentrato con l'Alazio, perché Kostic si era fatto male, il CT della Serbia ha detto, Kostic in questo momento non è ancora al top, speriamo che possa recuperare, vediamo, magari alla prossima, può rientrare già dalla prossima, vediamo perché c'è fretta, detto il CT della Serbia, Vlaovic invece non ha giocato titolare, ha giocato Mitrovic davanti, con alle spalle Tadic e Sergei, e qua Vlaovic ragazzi il discorso si riapre, perché ancora una volta ha detto, Vlaovic è il recupero, Vlaovic è il recupero dalla pubalgia, però l'intenzione è che la pubalgia, bisogna valutarla bene, bisogna capire bene, perché il rischio è che lui possa non fare i mondiali che stava sognando, e quindi una coppa del mondo un po' così, ma in seconda battuta il rischio è che questa cosa vada a diventare sempre più cronica, e che questo male possa essere sempre più avvertito, quindi se c'è questa infiammazione, che sia proprio fermo, e basta, perché sennò rischia la Serbia di non avere il giocatore a disposizione al top della forma per il mondiale, la Juve nel non avere il giocatore a disposizione al top per il rientro in campionato, e soprattutto il giocatore rischia, non dico di rovinarsi la carriera, però di perdere dei mesi molto molto importanti in un momento ancora molto molto giovane, e dove deve dimostrare, perché Vlaovic ad alti livelli la dimostrazione ancora non l'ha data, e quindi il mondiale è una vetrina importante, la Juventus è una vetrina importante, però per farlo bisogna stare bene, stringere i denti sì è onorevole assolutamente, però poi quando c'è un problema va affrontato, va risolto, anche a costo di perdersi determinati momenti importanti che si considerano importanti, quindi attenzione perché Vlaovic è in una situazione non simpatica a livello di classifica nel giro, perché perdendo la prima poi è sempre molto complicato, ma soprattutto anche dal punto di vista fisico, che è quella che in realtà a me e credo un po' a tutti i tifosi del Juventus preme un pochino di più, e quindi niente ragazzi, queste sono le considerazioni che volevo fare, tra l'altro noto solo ora che con la maglia gialla verde-oro del Brasile, non era voluto, e dietro c'è il verde, quindi proprio tema brasiliano puro, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di tutte queste considerazioni, l'atto mercato, dall'opportunità per l'esterno, se secondo voi Milinkovic-Savic può essere un nome, i portieri, e poi tutta la parte relativa ai mondiali, che è stata la conclusione di questo video. Un abbraccio, buon venerdì, e noi ci vediamo domani con altre notizie, ovviamente come sempre, che deriveranno anche dai mondiali.